Porsche introduce la certificazione tecnica per i veicoli storici. Buongiorno amici piloti, secondo l'Atlanta Journal Constitution in America del Nord verrà lanciato un nuovo programma di certificazione per i clienti proprietari di Porsche Classique che darà la possibilità di verificare l'originalità della propria vettura sia conservata che restaurata. Il prossimo mese infatti inizierà il programma di certificazione tecnica Porsche Classic. Questo programma prevederà che i proprietari di Porsche Classique possono pagare 500 dollari per far ispezionare le loro auto attraverso una verifica a 63 punti. Il certificato non solo stabilirà le condizioni attuali della vettura ma fornirà anche al proprietario le specifiche originali del suo modello. Anche se può sembrare una cifra un po' importante i proprietari potranno finalmente avere su carta una valutazione della condizione e del tipo di restauro fatto sulla loro inestimabile Porsche Classique. Amici piloti, staremo a vedere se arriverà anche in Europa. Nel frattempo vi ringrazio per la visione. Cliccate mi piace e condividete il video. Io sono qui che vi aspetto alla prossima Bright Futures. Stay tuned! Thanks for watching! Ciao! 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 Ciao!